non è male questo si matita questo è sempre il cane su la capite che lei ha capito e va bene sto a fare i complimenti non si vede, non si vede che ci stanno le canetone ecco lì qua, vedi la linea sempre di Terence la linea tua è incrociata con i rustici di qua e beh, è me con gli ombri niente quanto tempo è questo? il bambino? ehi il bambino? ah, non il bambino è un bambino è un bambino 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 la cagna giangata vedi questa della no? questa di immortalare la cagna e se la prendi in una bella posizione tendine è, stai 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 vogliamo stare a piedi la macchina la lasciamo là non anna , a canna sticcano ah o no ? non il c'è la corona il c'è il la mamma ? non c'è il padre la mamma il c'è il il c'è il comèdi il c'è il comèdi något t'es, ne luki paljon mi servei una foto con le begone, vedi come si avvicina e difende? Madonna santa, ora mi sono allontanato. Pronto? E' più bello qui, quello è più bello quello, c'è un bello l'occhio tirato. Qual è? Quello dietro o quello davanti? Perché le orlerie che le ha fatte brutte le ha fatte, non gliela tagliate bene. Questi vengono a Bruzzo, vengono per Carletta, vengono per... Ma non è, non c'ho, ma almeno sta a serfitto, ha più bella vigore. Quello da te risponde, ma che agnappanna ce l'ho portata io, capito? Che ti dici? E lo so che rispondi. Che ma panna chi era? Come cazzo si chiama, Mastegana, porco disco. C'è la linea diretta di Catone? Questa è diretta di Ares e la rustica mia. E quant'anni c'è questo? Questo c'ha un bocchettino, da 10 anni, però qua si vede Ares, qua si vede proprio Ares. Lascia aperte quella che non serve niente, infatti ci sarà questa cagna, altrimenti fai solo scandalo.